I vertici aziendali di Sud Elettra hanno ufficializzato il passo indietro, revocati gli otto licenziamenti che negli ultimi mesi sono stati contestati non solo dagli operai dell'azienda elettrostrumentale ma anche dai sindacati dei metalmeccanici. Di Fiom, Fim e Wilm, l'intesa dopo il confronto degli scorsi giorni è stata ufficializzata ieri mattina. Adesso l'accordo verrà trasmesso a tutti gli enti preposti, salvo il posto di lavoro dei dipendenti che avevano già ricevuto le comunicazioni di fine rapporto. I segretari Orazio Gauci, Angelo Sardella e Nicola Calabrese sono riusciti a strappare l'accordo che sembrava molto difficile da raggiungere. I manager del gruppo avevano comunicato i licenziamenti nonostante le commesse di lavoro acquisite in raffineria nei cantieri per la riconversione della fabbrica di Contrada Pian del Signore.